L'ho cercato, come hai detto te. Volevo togliermi questa soddisfazione e dedicarlo a mia figlia. Con un punteggio largo che ci dà morale, continuiamo a macinare punti e dobbiamo andare avanti. Adesso ci aspettano altre due partite in questa settimana. Il nostro obiettivo è sempre entrare in campo per fare bottino pieno. Inavvertito, proprio no. Stavamo facendo bene e sul primo tiro, unico forse, il tiro in porta abbiamo subito il pareggio, quindi un attimino ci ha destabilizzato. Poi siamo stati bravi a rimetterci subito in sesto e continuare a fare quello che stavamo facendo prima. Siamo stati più cinici rispetto a quello che eravamo qualche tempo fa. Però la cosa principale è che stiamo trovando una quadratura, un equilibrio che ci permette di subire poco. Poi dopo quando andiamo in avanti, chiunque siano gli interpreti, riusciamo sempre a creare palle e gol. Sappiamo che è un'ottima squadra e sicuramente da domani lavoreremo sempre con il solito obiettivo, che è quello di vincere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.